Cioè siamo venuti qua su a quarto, cioè siamo andando su verso il bagno di Romagna, c'è queste zone qua Cioè a un certo punto ho visto il cartello lago uscita a quarto, cioè qua vuol dire che c'è a quarto c'è c'è la storiona, c'è il lago, adesso andiamo giù a vedere se c'è modo di fare il bagno, hai capito la storia? Cioè c'è un laghetto, hai capito? Andiamo! Cioè oh veramente, ci sta, eh, ci sta un bagnetto qua in questo lago bellissimo Stora a fare, quella storia, no? Cioè ma dov'è il laghetto? Non è che ci sono dei pezzi che pinte roba con... Cioè oh guarda qua a fanno il lupismo spinto! Ciao sorelle! Cioè si può fare il bagno qua? Ma cosa c'è? Fa un verissimo spinto! Cioè... Ma si può fare il bagno? Cioè dai dai facciamolo dai basta! Sei sicuro Jackie? Si rompiamo le regole, basta Jackie! C'è uno storione, lo sai che storione! Cioè guarda, ma questo è largo! Cioè stiamo scherzando! Cioè... All'attacco! All'attacco! Alattacco! Ti vada yo! Ti vada yo! Li vada yo! Abbiamo il rottatto! Si. Può. Fare! Ti puoi andare a cercare? Ti puoi andare a cercare, che vi rivolgo... L'acqua è bellissima, immaginiamo qualcosa di meglio questo bellissimo luogo di montagna, cosa dici Fabio? Bisognerebbe fare un'opera di morire, o sennò un bel concerto funky, raccogliere un po' di fonti, è una vergogna, questo immobilismo delle amministrazioni, questo immobilismo che ha teso questa zona così, solo piena di fame, è una vergogna, ma perché non facciamo un comitato cittadino per il suo, ce ne siamo un comitato, oggi c'è c'è più lago qua, c'è più lago, andiamo, addio, aiuto, andiamo così, questo immobilismo istituzionale ci ha stufato, andiamo, andiamo a sensibilizzare, però si può vivere una situazione del genere, piccola lago bellissimo, ora guarda come siamo di tutti, non si può andare avanti così? Andiamo a fare le cavie umane, guarda come ci si vede di noi, a fare il presidente, ti dà un abbraccio, guarda come ci si vede di noi, a fare il bagno dell'acqua, come facciamo a fare le cavie umane, io dovrei fare dei cinghialotti, eh ma infatti ci siamo provati a incrociarci, non ancora niente, ciao, 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 va bene, via. Grazie a tutti.